buon pomeriggio a tutti che cosa c'è da dire che cosa c'è da dire allora io mi stavo vedendo la gara di forma 1 la ferrari tutta quanta la gara mi stavo vedendo ma come sempre come sempre la ferrari ha deluso un'altra delusione è una vergogna una vergogna una vergogna vedere una ferrari farsi superare dal farsi superare dalla racing point dalla renault credibile e poi anche 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 dalla mclaren c'è ma non ci sono parole che cosa c'è da dire che cosa c'è da dire la ferrari quest'anno sta facendo schifo non c'è altro da dire che cosa c'è da dire io io proprio sono sono imbarazzato sono non vengono altre parole non mi viene altro dispiacere cioè io mi sono onestamente va mi sono rotto le scatole perché ora basta ora ora mi sono stancato di vedere questa macchina questa macchina fare fare sempre delle bruttissime gare questa questa è un'altra gara bruttissima che vedo che vedo da ferrari un'altra gara bruttissima dopo dopo il la gara di monza anche in mugello mamma mia che vergogna e a me mi sorgono delle domande e vedendo la ferrari così vengono a me mi vengono delle domande dopo che c'è stato l'accordo della ferrari con la fia per quanto riguarda l'immodore che la ferrari non doveva mettere vedendo questa situazione vedendo questa situazione della ferrari che è dietro gli altri e che invece di stare vicino alle altre macchine alla renault alla racing point si fa superare dietro addirittura alle altre allora io non riesco a capire perché non riesco a capire perché la ferrari non ha usato il pugno duro non ha detto no fia no perché se tu mi dici di non usare il motore forte che ho il motore potente che che abbiamo noi noi non partecipiamo in questo mondiale e voi fia perderete un sacco di soldi perché la ferrari perché la ferrari è la squadra è la squadra più seguita la formula 1 perché ci sono un sacco di tifosi e voi ci perdete un mucchio di soldi no invece la ferrari si è fatta mettere mi dispiace dirlo ma si è fatta mettere i piedi in faccia dalla fia è una vergogna uno schifo manco ai tempi manco i tempi di john todd la ferrari si faceva mettere in piedi in faccia non si faceva non si faceva mettere i piedi in faccia da nessuno né tantomeno dal né tanto di meno da tanto di meno dalla fia da nessuno portava le novità e se nel caso la fia faceva un'indagine si difendeva la ferrari perché c'era john todd che diceva che 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 difendeva la ferrari faceva capire gli altri che 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 la ferrari era la migliore punto ora questo non 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 c'è più ora non vedo più la vera ferrari io mi dispiace dirlo ma è così è una vergogna uno schifo e onestamente io mi sono rotto vedere la ferrari vedere vedere la ferrari farsi mettere i piedi in faccia dalla fia e se farsi trattare in questo modo dalla fia c'è non potendo utilizzare il motore potente la ferrari e ora in questo la ferrari in questo mondiale sta facendo una figura di merda e certo certo non può non potendo utilizzare il motore potente che aveva e ovviamente è stata costretta utilizzare il motore meno potente e infatti ora i risultati si vedono la ferrari si fa superare da tutte le altre squadre è uno schifo è uno schifo ed è in una vergogna basta basta ora dico un'altra cosa cara ferrari caro john elkan questa è la seconda figura di merda che fate dopo il dopo monza il mugello sarà un'altra figura di merda o prendi dei provvedimenti tu john elkan e camilleri se se volete il bene della ferrari cacciate via cacciate via questo 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 schifoso di binotto e mettete un team principal con i controcazzi va bene basta basta perché binotto binotto si è fatto mettere i piedi in faccia dalla fia la ferrari ai tempi di john todd non si faceva mettere i piedi in faccia da nessuno john todd da nessuno e perciò cara ferrari caro caro john elkan e camilleri se volete il bene della ferrari cacciate via cacciate via a questo schifoso di binotto e mettete e mettete un team principal io non so ho sentito dire che si parla di nicolas todd il figlio di john todd e se se nel caso fosse vera questa notizia mettete nicolas todd come team principal e binotto rimettetelo al posto di ingegnere meccanico perché era l'unica cosa che sapeva fare benissimo binotto binotto è un ingegnere come team principal non capisce niente si è fatto mettere i piedi in faccia dalla fia e anche dalla meccedes e dalla meccedes e dalle altre squadre vergognoso manco i tempi di john todd succedono queste cose è vergognoso vergognoso mette mettete nicolas todd come team principal fuori binotto fuori binotto e rimettetelo come ingegnere perché perché quello perché è perché quello che sa fare binotto ingegnere meccanico lui è un ingegnere non è un team principal non è capace di fare un team principal ok sono questa è la seconda stagione la seconda stagione che fallisce e binotto da quando arrivato lui due stagioni due stagioni di merda ok basta basta perché noi tifosi non solo io della ferrari ci siamo rotti le scatole basta e sempre fino alla fine forza ferrari e quindi e quindi